Ciao a tutti ragazzi, piccolissimo e brevissimo video per, come vedete dal titolo, raccontarvi un pochino di questa repubblica napoletana governata da un senato del popolo napoletano. Ho estratto il salvataggio che avete visto nello scorso episodio, l'ho inserito in un altro profilo Steam di un mio amico, non potevo ricaricarlo dato che il gameplay avrebbe inevitabilmente sovrascritto quello che stiamo portando avanti per la campagna, e l'ho fatto tendenzialmente per poter vedere dal punto di vista pratico che cosa cambierebbe scegliendo la repubblica. Come vedete visivamente non cambia nulla, il nome della nazione è lo stesso, la bandiera è la stessa, il colore è lo stesso, quindi questo non cambia assolutamente nulla. I vassalli rimangono esattamente gli stessi, come vedete stranamente abbiamo la Spagna che è leggermente meno sleale, però dal punto di vista di core del nostro stato rimane tutto uguale. Quello che invece cambia è l'aspetto del nostro governo, infatti se noi andiamo nel governo come vedete noi abbiamo una serenissima repubblica con anche dei modificatori leggermente diversi, quindi abbiamo il local unrest, tax modifier, manpower e sailor modifier date dall'accettazione delle culture repubblicane, e infine anche dato che effettivamente siamo una signoria, abbiamo anche dei bonus per le tasse e l'assolutismo. Questa è potentissima ragazzi, dal punto di vista delle stats è potentissima. Abbiamo anche più diplomatici, un'autonomia mensile abbassata, governing capacity di ben più 200 e il cooldown per il focus nazionale di meno 5. Questo porta inevitabilmente anche, come vi farò vedere dopo, dei cambi delle policy governative, ma anche chi è a capo stesso della nostra repubblica, perché in questo caso noi manteniamo sempre Francesco I con la sua personalità, ma come vedete non compare più la regina e l'erede, ovviamente, perché lui in questo caso diventa il doge serenissimo Francesco I Marzano. Questo significa che alla fine del suo periodo di governo lo potremmo, come sempre, rieleggere, fino a un massimo di 3-4 volte, con comunque il rischio di creare una dittatura repubblicana, nel caso in cui venga rieletto troppe volte, oppure cambiarlo. Cambiandolo inevitabilmente la dinastia dei Marzano, capo dell'Unione Mediterranea, oppure della Repubblica Napoletana, inevitabilmente sparirà. Infatti, noi dovremmo scegliere un nuovo sindaco, o meglio, un nuovo serenissimo doge, che sarà diverso di una qualsiasi famiglia napoletana. Inoltre, la legittima CQ, come vedete, come sempre, viene cambiata in Republican Tradition, e per quanto riguarda, invece, le policy governative, le policy governative diventano policy repubblicane e abbiamo un totale di 800 punti da distribuire. Questi 800 punti vanno ad utilizzare, tutto sommato, il ramo esteso, ovviamente, di Venezia, della mod che sto utilizzando, più determinate scelte inserite nelle signorie del centro Italia, come Toscana, Pisa, Modena, eccetera. Ad esempio, come vedete, noi abbiamo i contratti con i condottieri, potremmo avere anche gli unioni di Stato, o, via via, c'era anche qualcos'altro che non ricordo dettagliatamente. Ecco, il supporto alla borghesia e una mix repubblicano. Quindi, tutto sommato, è anche un grosso cambiamento dal punto di vista delle nostre policy. Io sono convinto di aver fatto la scelta buona, perché è positivo mantenere in marzano a capo del nostro Stato. Però, ragazzi, se vi può interessare provare a fare un gameplay con la Repubblica Napoletana e giocare attraverso il Senato del popolo napoletano, io vi posso passare molto tranquillamente il file del salvataggio. L'unico problema, considerate che voi dovrete avere tutte le mod che ho io in attivo ora, l'elenco delle mod le trovate sotto nella descrizione del video, ma soprattutto dovrete avere Europa Universalis nella versione che sto giocando io ora, altrimenti il salvataggio non sarà compatibile. Non ricordo adesso la versione esatta, la controllerò in fase di editing, vi apparirà ora video. Quindi, nel caso in cui siate interessati, sotto nei commenti, ditemi che mi avete scritto sul canale Discord del canale, vi passerò direttamente il file. Nel caso non sappiate come caricare fisicamente il salvataggio sulla cartella di gioco, me lo dite e vi dirò anche quello. Detto questo, ragazzi, ci vediamo in questo caso sulla nostra vera timeline, quindi sulla vera timeline di Napoli monarchica e la nostra Unione Mediterranea, e dovremo capire nei prossimi episodi, come vi dicevo ieri, se sarà il caso di punire severamente i Savoia per il loro supporto indipendentista e quindi andare a dichiarare guerra alla coalizione. Se sarà quindi il caso che i Marzano decidano di scendere in armi contro la coalizione guidata a capo Mammelucco per andare a insegnare ai Savoia qual è il modo di comportarsi degli affari esteri e se questo sarà possibile farlo grazie al supporto dei due centrali e grossi alleati napoletani, Burgundy e Commonwealth. Un saluto a tutti ragazzi e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!